Noi diamo poi scontate cose che non sono affatto scontate, ad esempio che ogni cosa abbia una massa. Intanto vi devo deludere, ma la luce, i quanti di luce, i fotoni, non hanno alcuna massa. E vi spiegherò perché in questo video, che spero sia chiaro, io non faccio divulgazione, voglio soltanto darvi degli spunti per andare voi a approfondire questi temi con gente competente. Questo è il mio scopo e non è quello di spiegarvi, però ho con me un grandissimo ausilio, che è la grande mente e l'intelligenza artificiale, che insieme a quello che io ho un po' capito di questa branca difficile della fisica, posso riuscire a dare un quadro piuttosto credibile, perché io sono l'uomo della strada e quindi se l'ho capito io lo capirete anche voi. Questo è un po' il discorso, perché invece quando andiamo a vedere i video divulgativi dei fisici, purtroppo loro, per quanto bravi, non riescono a spiegarlo perché loro ragionano in maniera troppo complessa per essere capiti dall'uomo della strada. Quindi forse riuscirò io e non i fisici a farvi capire perché i fotoni, cioè la luce, le particelle di luce, non hanno massa e perché la massa è qualcosa di molto più strano e aleatorio di quello che voi credete. La massa, attenzione, non è una caratteristica intrinseca della materia, ma è qualcosa che viene data dal campo di X. Quindi la massa non ha di per sé massa, ma ha massa soltanto perché passa in quel campo lì, che per fortuna permea tutto l'universo e quindi dà un'idea di continuità di massa. Questa è una cosa strana perché non è che c'è la massa, io prendo una mela e la mela ha la sua massa. No, la mela ha la massa soltanto perché sta dentro il campo di X e questo è incredibile se ci pensate. Quindi gli atomi della mela non hanno una massa intrinseca, ma l'hanno solo tramite il campo di X. Ma ancora di più, è peggio perché il campo di X non è che esprime il fotone di X in maniera continuativa. No, il bosone di X è qualcosa, una particella che è stata trovata, se non sbaglio, nel 2012, dopo anni di ricerche, perché è sfuggente, è difficile. Sapete perché? Appare e scompare da questo campo di X, che poi tra l'altro è tutto l'universo. Ecco, appare e scompare in maniera rapidissima, però lascia dei segni permanenti. Questo è quello che mi dice l'intelligenza artificiale. Allora andiamo un po' a andare un pochettino sullo specifico dopo questa piccola introduzione. Gli ho detto, puoi scrivermi un trattato convincente, semplice e chiaro, esplicativo, che spieghi questo tema a chiunque non sappia nulla di fisica. Certamente, come se fosse la sua più semplice del mondo. Posso darti un'esposizione più approfondita sul tema. Il bosone di X è il campo di X, un trattato esplicativo. Allora, vediamo se la grande mente riesce a fare l'impossibile. Quello che i fisici da anni cercano di spiegare alla gente della strada, e la gente della strada dice, no, questa cosa proprio non mi entra in testa, perché io non posso accettare, per tutto che la luce non abbia massa e i fotoni non abbiano massa, perché l'avranno piccolissima. No, no, non è piccolissima, non ce l'hanno proprio. I neutrini ce l'hanno piccolissima, forse. E invece i fotoni, niente, niente massa. Ed è per questo che sono le particelle più veloci e viaggiano alla velocità della luce nel vuoto di 300.000 km al secondo. Ecco, è perché sono in grado di passare il campo di X senza essere rallentati. È come se ci fosse una resistenza. Come lo posso spiegare? Fate conto che noi abbiamo una piscina, ok? Che però nello spazio si può non avere la gravità, no? Quindi io creo una piscina, un cubo di piscina, un cubo di acqua, diciamo, che rimane fermo perché non c'è vento. Questo cubo di acqua che galleggia, ok? Immaginatelo davanti a voi, ok? Io ci sparo dentro quello che voglio. Allora, ci sparo dentro prima un pallone piuttosto grande, voluminoso e leggero, leggero nel senso che non riesce a penetrare dentro, fa fatica, e ci rimbalza, prendete, e non riesce a un'enorme resistenza, tale che non riesce nemmeno ad entrarci dentro. E quelle sono le particelle più pesanti. Mentre ci metto qualcosa di piccolissimo, piccolo, ancora più piccolo, immaginate qualcosa che sia piccolo puntiforme, o immaginate qualcosa che sia talmente piccolo che praticamente non ha nessun tipo di interazione con quello che attraversa, con le particelle dell'acqua, e riesce a passare questa piscina galleggiante indenne, così, senza essere rallentata per nulla. Ecco, non ha resistenza dal campo di X e quindi è la luce che non ha massa, quindi non acquisisce la caratteristica della massa, perché la caratteristica della massa gliela dà il rallentamento che ha dentro questa massa d'acqua che attraversa. Ora, questo è un esempio assurdo, però, avete visualizzato questa bolla d'acqua che avete davanti, enorme, attraverso la quale facciamo passare tutto? I neutrini, invece, vengono rallentati, evidentemente, in maniera leggerissima, quindi hanno probabilmente una piccolissima massa, ma attraversano, ad esempio, l'intero pianeta Terra, senza problemi, eh? Quindi, i neutrini sono così, sono molto, possono somigliare ai fotoni, ma non c'entrano nulla, in realtà, qualcosa di completamente diverso, e sono un altro tipo di particella. Ci sono un sacco di particelle. Ora, un'altra cosa che io dicevo è che vorrò prendere a tema per un video, perché un fotone è un fotone qui, è un fotone sulla galassia Andromeda identico, come se fossero pezzi di Lego. Un pezzo di Lego, ci sono tanti tipi di pezzi di Lego, ma quel pezzo di Lego lì, fatto in fabbrica ai denti o all'altro, sono di quel tipo identici. Perché li fanno identici se la natura è creata dal caos? No, c'è un disegno intelligente, e questo è evidente. È un disegno intelligente, tra l'altro, furbo, che sfugge, perché quando siamo andati a scoprire il bosone di X, si è complicata la cosa, perché ci siamo accorti che i decadimenti del bosone di X, e il decadimento significa che questo bosone appare per un tempo rapidissimo. Cosa significa? Non è che scompare, decade in qualcos'altro, in tante cose. Può decadere addirittura in dei fotoni, può decadere in altri bosoni. Cioè è una cosa incredibile, è proprio appare, scompare, come se la natura volesse non essere tanto osservata da noi curiosoni umani. E voi sapete che l'osservatore nella fisica è fondamentale, specialmente nella meccanica umantistica. Cioè cambia l'esito dell'esperimento, e quindi questo poi falsa tutto. Quindi che cos'è questo campo di X? Io ve l'ho fatto immaginare come una piscina che però non ha pareti, e che galleggia in un mondo senza gravità. E però praticamente è tutto piscina, quindi non c'è il fuori a questa piscina. Il campo di X è una presenza costante nello spazio, permeante ogni regione dell'universo, immaginiamolo come una sorta di oceano invisibile, quello vi ho detto, attraverso il quale le particelle si muovono. Il campo è sempre presente, anche se le particelle sembrano muoversi attraverso di esso senza problemi, specialmente i fotoni, che come vi dicevo passano attraverso senza essere rallentate per nulla. Interazione nel campo di X. Quando una particella attraversa il campo di X, interagisce con il bosone di X associato. Cioè il bosone di X che è espresso da questa zona, diciamo, che appare e scompare l'altro che è una particella instabile, riesce comunque a permeare questo spazio. Il bosone di X è una particella instabile, eppure la sua brevissima esistenza ha un impatto duraturo. Le particelle durante queste interazioni acquisiscono una resistenza alla loro accelerazione, quindi vengono rallentate, creando quella che interpretiamo come massa. Cioè la massa non esiste, è qualcosa che noi interpretiamo come massa, ma è il rallentamento delle particelle. Quindi è chiaro che una particella, una massa maggiore viene rallentata di più, tipo un protone, viene rallentato di più di un fotone, di un neutrino, ovviamente. Quindi qual è il significato intrinseco di questa parola? Massa. La massa, che vi ricordo, è trasmutabile in energia. energia, ovviamente serve fare qualcosa, però comunque è trasmutabile in energia la massa, quindi massa e energia sono due facce della stessa medaglia. In questo contesto può essere considerata come una sorta di resistenza all'accelerazione di una particella. Più una particella interagisce con questo campo di X, che vi ho detto è come questo oceano immenso, senza confini, che dobbiamo attraversare, maggiore sarà la sua massa. Quindi in un certo senso la massa non è una caratteristica intrinseca di una particella, ma è il risultato delle sue interazioni con il campo di X. Poi la cosa che non ho capito bene è che questo bosone di X, quando appare, ha una massa enorme, una massa pazzesca, e poi scompare. E quindi è una cosa che proprio non si riesce ancora a capire bene. L'importanza della scoperta del bosone di X. La conferma sperimentale è stata fatta nel 2012, passa fondamentale. Questa scoperta, dicono, abbia consolidato il modello standard, perché effettivamente prevedeva il bosone di X. Però il problema è che ha aperto la porta a una serie di domande che l'hanno fatto poi traballare. Perché sono state poi... Ha dato una fioritura incredibile alle ricerche su particelle, sulla fisica delle particelle, nuove particelle che devono essere trovate, insomma, veramente la materia scura, l'energia oscura, poi dicono che forse non esiste. È davvero qualcosa di incredibile che abbiamo davanti. Sta nascendo una nuova fisica, ecco. Quindi, per chiudere, dice l'intelligenza artificiale, il bosone di X e il campo di X sono concetti fondamentali nel modello standard, che spiegano, il modello standard, ve lo dico, è un'invenzione umana per creare, tenere tutto insieme. Il modello standard è lo stesso che dice, beh, non manca qualcosa, manca energia oscura, materia oscura, cioè manca energia e materia per avere la tenuta delle galassie, inventiamoci che c'è una materia oscura e un'energia oscura. Magari la trovano, per carità. Però è chiaro che questo modello standard è una creazione umana che deve essere confermata. Ogni volta viene sistemata, rivisitata e alla fine sarà il modello definitivo, ma non lo è mai, perché diciamo che l'universo è fatto in modo che ogni volta scopriamo qualcosa troviamo qualcos'altro che ci rimette tutte le carte in tavola. E non vogliono, coloro che hanno dato l'universo, che le loro creature scoprano l'essenza stessa della tessitura dell'universo, che potrebbe essere qualcosa di molto fine. alcuni dicono che non sono le stringhe, ma in realtà le stringhe non sono mai state trovate, probabilmente non esistono. Probabilmente l'universo è fatto della stessa materia, dei sogni. Pensateci. Iscriviti al canale YouTube Chiocciola l'eremita, è gratis, e attiva la campanellina per non perdere nessun video.